Musica Bevi, 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 bevi e poi cominci a cantare Mangia, 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 mangia Bevi, 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 bevi e poi cominci a cantare Un canto nella valle, ora ti voglio insegnare Parla di un cestolino Buona domenica a tutti dall'Emine News Siamo all'Associazione Nazionale ad Alpini di Almeno San Salvatore nell'occasione del settantasettesimo anniversario della bataglia di Nicolaio Buongiorno Fausto Certo Ciao a tutti Eccoci qua dentro all'interno della sede Dove lui già lo conoscete? Sì, siamo, sono un attiere di Alpino di Almeno San Salvatore E poi siamo qui perché abbiamo fatto la festa di Nicola Jeska e siamo qui tutti a mangiare insomma A mangiare Buongiorno Don Giorgio Ciao a tutti benvenuti Questa è una bellissima festa è l'occasione della commemorazione della battaglia di Nicola Jeska Siamo arrivati al settantasettesimo Il signor accanto a me è l'essenzionale Colosio che oggi la voglio rappresentare Siamo piacere di averla con noi per questa commemorazione Piacere è stato mio, veramente una cerimonia, una bella cerimonia molto sentita, ho visto, ho apprezzato veramente e sentito dallo gente Grazie a lei della sua partecipazione Questi sono tutti i nostri amici di Almeno e Non Due facce conosciute di Almeno Facciamo dire due parole anche al nostro sindaco Michele Sarchelli sempre presente in mezzo alla sua gente Buongiorno a tutti, ringraziamo gli alpini per l'evento di questa mattina con la partecipazione di venti gaiardetti perché mi diceva il presidente che è diventata sezionale di area la festa di Nicola Jeska e ringrazio tutti loro per quello che fanno per la comunità Grazie Viva gli alpini Viva gli alpini